Buongiorno amici questa è la web tv di quotidiano net siamo qui per il rituale appuntamento con il ciclismo si è conclusa la tredicesima tappa del Giro d'Italia a Lido di Camaiore Firenze di 176 km questa volta soluzione allo sprint non poteva essere diversamente un duello Cavendish-Petacchi questa volta ha vinto l'inglese quindi Cavendish 3-Petacchi 2 nella piccola graduatoria personale di questa sfida come è andata lo chiediamo ad Angelo Costa il nostro inviato al Giro buongiorno Angelo buongiorno a tutti abbiamo rivisto la volata di Trieste con un Petacchi che ha provato ad anticipare la maggiore esplosività dell'inglese che però stavolta si è accorto dell'arrivo del veterano italiano e lo ha anticipato ai 200 metri facendo partire la sua classica volata a tutta potenza ed è arrivato a questo terzo successo che in questo Giro potrebbe anche essere l'ultimo se la sua società riuscirà a convincerlo a fermarsi qui perché Cavendish dovrà affrontare anche il Tour in luglio mentre invece l'inglese vorrebbe arrivare fino a Roma Ecco sentivo nel dopocorsa delle proteste di Petacchi all'indirizzo di Farrar che lo avrebbe ostacolato dice lui ne sai qualcosa Angelo? Beh da quello che si è visto Farrar ha cercato di farsi largo con qualche spallata diciamo con un po' di mestiere lo ha fatto nei confronti di Petacchi, lo ha fatto anche nei confronti di Renshov che stava aprendo la strada per la volata Cavendish però a quello che ha visto la giuria è tutto nella norma Ecco domani il Giro del Centenario torna a Bologna ed esattamente sul colle della Guardia a San Luca per uno dei punti di riferimento più importanti del Giro anche di questi ultimi anni è un'occasione importante si diceva per Di Luca Sì domani c'è questa tappa che prima di tutto è molto nervosa nel percorso un percorso che si presta anche ad azioni da lontano anche se per vedere la tattica della squadra di Luca di tenere abbastanza chiusa la corsa per arrivare ai piedi di San Luca con il gruppo ancora compatto e da lì consentire al proprio capitano di cercare una vittoria di tappa importante non tanto per il distacco che si può fare sulla salita di San Luca che è appena a due chilometri quanto per la buona che su questo traguardo ci sarà da aggiungere all'eventuale distacco che si riuscirà a ottenere Molto bene, grazie ad Angelo Costa che salutiamo, arrivederci Angelo Arrivederci domani Ai prossimi appuntamenti col Giro d'Italia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti